Musica Monsignor Vincenzo Bertolone, l'Arcivescovo della Diogio Sedi Catanzaro, e anche Presidente della CEI, della Comunità Episcopale Calabrese, ha rivolto in occasione di queste feste un appello ai calabresi, una lettera riflessione che in qualche modo ha suscitato un dibattito tra le forze politiche e sociali di questa nostra Calabria. Nonostante ciò io non credo che le forze politiche e sociali della nostra regione poi ci credono molto nel rispondere agli stimoli di questo presule che tra l'altro non è la prima volta che fa delle osservazioni intelligenti. Sostanzialmente l'ha riassunta così, è un appello a dire rialzati Calabria. E questo appello è originale perché per la prima volta dice ai calabresi reagite però al di fuori delle analisi sui dati, sull'economia che vanno giù, sulla disoccupazione che è sempre più alta, sulla emigrazione giovanile e non solo giovanile che insomma è ripresa in maniera massiccia da parte dei nostri corregionali. Lo dice dicendo ognuno per la sua parte si rimbocchi le maniche e cominci a fare qualcosa. Cioè esca fuori dalla retorica che insieme ai atavici problemi di questa regione è uno dei mali endemici della nostra terra. La ritroviamo nella politica ormai sempre più avvolta, prigioniera, di dibattiti inutili, inservibili e poi immobile rispetto all'azione da fare. E così gli anni passano, questa regione va sempre più giù, però nessuno che realmente marchi la possibilità di fare un passo avanti a questa regione. Ecco, io ritengo che il messaggio, l'appello che Monsignor Bertolone ha fatto ai calabresi debba essere invece preso come uno stimolo per agire, ognuno per la sua competenza, cercare di segnare il passo di una terra che ormai è sempre di più verso il baritro. E quando si parla di baritro non si parla soltanto di economia, ma di quel baritro che è fatto soprattutto di decadenza morale, etica, sociale, che sta distruggendo, annientando, annichilendo le ultime energie positive di questa regione. Uscirà questa regione fuori dal suo linguaggio, dalla sua propensione alle parole, alle parole, alle chiacchiere, da questa sua giungla parolaia, però poi immobile, inefficace. Ecco, nella lettera di Monsignor Bertolone, noi leggiamo questo appello a fare in modo che la Calabria si liberi dalla sua storica inefficienza, dalla sua storica rassegnazione, dalla sua storica retoricità degli intellettuali, degli economisti, degli imprenditori e chiaramente della politica per avviarsi a fare qualcosa, a stimolare qualcosa, a dare forza a chi? Quelle famose maniche in questa terra se le già rimboccate, ma spesso combatte contro un sistema che vuole fermargli e bloccare la sua azione.